finalmente a napoli amici ci vediamo questa sera spacchiamo tutto siamo in camerino stasera concerto a napoli il camerino circense mi piace mi sento una stata del circo ciao in camerino prima della data di napoli e non so come vestirmi forse dovrei chiamare chiara fede mi dai il numero di chiara per favore oh A presto. Sì, sì, sì. I don't know I don't care Oh Wow Wow Ok, ok, ok e tutti bell'oro che non capito che chi siamo io grazio di farlo A presto Sì, 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 sì. Allora amici, stavo constatando insieme a Sergio che sono tornato dimagrito dall'America perché non ho bevuto niente, perché ho paura che mi drogassero il cocktail e quindi sono tornato che sono una silhouette Buongiorno amici, torniamo a Milano Ah, è un po' incazzato perché non avevo il riscaldamento che andavo in hotel e giustamente, voi ti vedete che io sono in canottiera Invece ha il giubbino di f*** Non ero un fan, mi ha regalato il sushi della Chupa Chups, raga Ti viene il diabete anche solo a mangiare le bacchette È buonissimo Adesso lo mangiamo